Ben ritrovati ancora una volta dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa per un'altra puntata di Cavalli ed Intorni. Partendo dal basso, nell'ultima parte della trasmissione andremo ad analizzare sicuramente quello che è il convegno in programma domani qui all'ippodromo di Siracusa. Parleremo anche con il dottor Concetto Mazzarella perché c'è stata una riunione al MIPAF, al Ministero per le Politiche Agricole, con le società e quindi con gli ippodromi. Quindi seguiremo le ultime novità e ancora vi racconteremo alcuni eventi sia dell'ippodromo del Mediterraneo sia a Canicattini Bagni dove si tiene la trentesima edizione del Palio di San Michele con la Corsa degli Asini e tante altre manifestazioni e vedremo e daremo uno sguardo anche a qualcosa che è successo all'ippica nazionale soprattutto. Salutiamo Gregorio Arena, diamo il nostro in bocca al lupo come ippodromo del Mediterraneo, Alfantino che insieme ad Angel Paola Terase purtroppo sono stati vittime di questa buca all'ippodromo di San Siro. Una buca su cui si sta cercando di far luce. C'è anche un'indagine con ipotesi di lesioni gravi per l'incidente che è successo nelle prime ore di martedì. Gregorio Arena era sul Pittura d'Arcadia, è il Fantino di Catania, lo rivediamo nella foto, 29 anni, è ancora grave, è ricovirato al Niguarda, dà timidi segnali di miglioramento, l'hanno anche risvegliato un po' dal coma farmacologico, però insomma la situazione è complicata come è complicata anche quella di Angela Paola Terase, 52N che montava Madian. Per quanto riguarda invece la nostra finestra aperta, grazie anche a Savino Rizzi che potrà seguirvi attraverso web e soprattutto Facebook. Ben ritrovati anche da me, dal box interattivo. Sì, vi seguirò attraverso il gruppo Facebook di Cavalli e dintorni, dove ci farete arrivare i vostri pronostici, le vostre idee e tutte le vostre curiosità. Poi vi ricordo di seguirci in diretta streaming dal sito telestarsr.it, se avrete la voglia e il piacere di riseguirci potrete farlo attraverso YouTube cliccando Ippodromo del Mediterraneo. Allora, apriamo sullo studio perché oggi siamo in compagnia e ringraziamo per venirci a trovare ancora una volta Giuseppe Brancato, eccolo qui, allenatore ippico, insomma, siracusano, quindi ci aiuterà sicuramente nei pronostici successivamente. Conoscevi Gregorio Arena? Sì, abbiamo lavorato insieme in passato con la scuderia Ciro Testa, gli faccio il mio più grandissimo in bocca al lupo e gli auguro di tornare presto tra di noi, nel mondo dei cavalli. Bene, ringraziamo Roberto Cannata, rappresentante del comitato dei quartieri di Canicattini-Bagni, esaurito per il troppo lavoro degli ultimi giorni perché veramente si sta organizzando le ultime fasi del trentesimo palio di San Michele. E ancora, il signor Vincenzo Cavalieri, che ormai è l'ipodromo del Mediterraneo, è veramente un amico. Il signor Cavalieri ha la fattoria Cugno Lupo, ha questi asinelli che non soltanto producono latte, ma anche andranno in scena ancora una volta sullo spettacolo in strada. Sono pronte? Prontissime. Ben allenate? Benissime. Ormai sono veramente allenate. Hanno partecipato a diverse competizioni, ormai vanno su strade diverse, non c'è problema di trasporto. Ci sarà anche la campionessa dell'ipodromo, Lucia, di quest'anno, ci sarà anche la che correrà. Vedremo se si riconferma allora. Patrizia, prima di lasciarti la parola, volevo riportare il saluto e l'augurio che Diego Cutrale fa a Gregorio Arena. Bene, io penso che molti ippici si legano a questo momento di augurio per il fantino di Catania. Allora, andiamo con uno stacchetto per poi presentarvi e parlarvi di alcune cose che riguardano l'ipica nazionale, ma anche l'ippodromo. Allora, per quanto riguarda c'è innanzitutto la denuncia da parte di Emilia Di Meo, presidente della SNAP Sicilia, di un'inadeguatezza degli impiegati dell'ufficio pagamento premi trotto. Ci sarebbero stati degli errori nella lavorazione dei premi del mese di ottobre, novembre, dicembre 2012 e aprile 2015. E quindi, insomma, il presidente si è fatto portavoce della disastrosa situazione che colpisce già il mondo degli ipici e del trotto e che comunque si aggrava proprio perché poi, essendo non arrivando ai premi giusti, insomma, la situazione diventa insostenibile. Cosa che però non riscontriamo in questi tipi di problemi nel galoppo, perlomeno dai nostri allenatori, dai nostri proprietari. Non è stato ravvisato gravi errori. Me lo confermi, Giuseppe? Vi sono arrivati i premi? Sì, i premi di aprile sono arrivati. A me sono arrivati correttamente, sia come allenatore, sia a mio padre come proprietario. Non so se qui a Siracusa qualcuno ha avuto dei problemi con i pagamenti, ma credo che... Certo, quando arriva un pagamento sbagliato e si deve andare a fare le correzioni, insomma, disturba già in una posizione poi... Disturba perché già i pagamenti vengono effettuati con ampio ritardo. Succedono questi inconvenienti, si triplicano ancora di più i ritardi, quindi sicuramente non è una situazione piacevole. Bene, poi vi dicevo c'è stata una riunione tra le società di Corsa e il Mipaf, ne parleremo col dottor Concetto Mazzarella che ci dovrebbe raggiungere in diretta appena arriva l'ippodromo del Mediterraneo e vi annuncio invece che ci si prepara l'ippodromo di Siracusa per l'handicap principale Cina-Strodoro di Sicilia domenica 27 che presenterà anche un evento perché Fiera Cavalli Verona ha scelto di presentarsi, ecco qui il manifesto ufficiale Welcome to Sicily per Fiera Verona con spettacoli equestri e gare ipiche. Fiera Cavalli si terrà dal 5 all'8 novembre a Verona, quest'anno affinità naturali in primo piano hanno anche il legame con le donne, saranno messe anzi risalto proprio le donne in questo cornice tutta invece siracusana, tra le sette corse di galoppo che vi dicevo avranno un handicap principale ci sarà anche Equinart con Vera Loforti che presenterà il Frisone, l'Espano-Arabo e un Pecheron andaluso mentre l'Ortigio Equi Club farà una dimostrazione di equitazione con Carlo Alberto Marchese e le loro Ranch presenterà il Quarter Horse con Monta Americana quindi questi un po' quelli che saranno gli spettacoli equestri all'interno di Fiera Cavalli Verona. Cambiamo argomento però e andiamo a Canicattini Bagni. Allora, trentesima edizione del Palio di San Michele, sagre giochi sfilate dal 22 giugno al 20 settembre a Canicattini ma soprattutto l'undici, il dodici e il tredici ci siamo, è il weekend più importante Cantastorie di Monte Rosse, sfilate in museo sotto le stelle con la musica live dei Perciazzucca e ancora Acursa Quescecchi. La diciamo in siciliano perché così fa più effetto, signor Cavaliere, giusto? Giustissimo, Acursa Quescecchi perché l'asino in Sicilia viene chiamato Uscecco, in altre regioni d'Italia viene chiamato Ciuchino o un altro nome comunque da noi è Uscecco. Benissimo, allora Roberto tu fai parte del comitato dell'organizzazione insomma dei quartieri è un momento molto bello per Canicattini a parte che è un appuntamento turistico, culturale ma anche sociale perché viene riunito tutti per collaborare. Cosa succede? Sì, finalmente siamo giunti a questo traguardo, l'attesa è quasi conclusa adesso c'è un movimento generale a Canicattini perché come dicevamo oggi inizia ufficialmente la manifestazione con il Cantastorie di Monte Rosso e il figlio, il signor Giuseppe Castello che ci allieteranno la serata con delle musiche siciliane raccontando dunque a suon di musica tipica nostra alcune storie molto importanti che toccheranno tanti argomenti da quelli passati fino a quelli attuali come ad esempio anche le stragi di Falcone e Borsellino. Poi domani abbiamo la giornata quella principale per il Palio, avremo la sfilata che partirà alle 17.30 dal corso Vittorio Emanuele per poi concludersi col Museo Sotto le Stelle. Sono tanti gli ospiti che quest'anno abbiamo, abbiamo uno dei carretti siciliani addobbati per l'occasione Aspetta un attimo, aspetta un attimo che noi ci abbiamo delle foto, siete alla regia e me li mandate? Sì, magari così le commentiamo. Noi andiamo ad analizzarle perché abbiamo raccolto, mentre voi pubblicate, no? Noi abbiamo fatto una cernita di tutte le cose che è su per giù, queste sono immagini dell'anno scorso. Questa è un'immagine della festa della fondazione. Di quest'anno. Di quest'anno, dove comunque resta protagonista insomma l'asinello e sempre costumi tipici che ormai sono, fanno parte insomma di un bagaglio che tirate fuori a necessità. Sono i costumi del primi del Novecento, che poi andranno in scena all'interno dei vari musei e faranno ambientazioni. Continuiamo con le foto, non ci fermiamo. Questo è il carretto che dicevo, sarà ospite quest'anno. Di chi è e come vai? Vengono da Catania e del signore Angelo Foti. Insieme al carretto ci sarà anche un gruppo folk che aprirà la sfilata e dunque l'accompagnerà con delle musiche siciliane tipiche. La sfilata è quella che parte da Forobuario? No, dal Corso Vittorio Emanuele, perché quest'anno abbiamo avuto un imprevisto con la strada che è inagibile a seguito da tutte le piogge che ci sono state e l'hanno resa inagibile. E quindi partiremo con un cambio di programma dal Corso Vittorio Emanuele, come si faceva in passato. E andrete? Quale strada percorrerete? Tutto il Corso Vittorio Emanuele per poi scendere in piazza a 20 settembre, dove ci saranno gli spettacoli dei vari quartieri coreografici. Bene. Sì. Andiamo avanti con le foto. Queste sono le corse da Vescecchi. L'anno scorso l'avete fatta insieme con i giochi all'interno del campo sportivo. Quest'anno si cambia? Perché? Si cambia perché volevamo fare il salto di qualità per questa gara che in tutte le regioni, come abbiamo visto, riesce a portare molta gente e molto entusiasmo fra gli spettatori. Quindi volevamo fare quest'anno questo salto di qualità, di portarla in una sede separata nel Corso Vittorio Emanuele e di distinguerla dai giochi per puntare appunto su questa manifestazione. E il nome di Canicattini e soprattutto del Paglio ha circolato non soltanto a quell'ippodromo per il 2 giugno perché siete stati i nostri ospiti, ma anche al Paglio europeo di Camposano. Camposano perché voi siete andati là perché? L'anno scorso e quest'anno abbiamo rappresentato la Sicilia appunto con il nostro Paglio perché là c'è una gara, l'anno scorso è una nazionale, quest'anno è diventata europea perché c'è stata la Spagna, la Slovenia, mi pare non mi ricordo un altro stato e noi rappresentiamo la Sicilia appunto con il Paglio nostro e c'è una corsa con gli asini, ripeto là, a Camposano in provincia di Napoli. Bene, allora, saranno 8 i quartieri? Quali sono? Sì, i quartieri sono 8, Balatazza, Vizzomuro, Sanduzzo, Priolo, Vardune, Matrice, Vigna e Priolo. Com'è finita con Floridia? Siete riusciti a fare questo gemellaggio? Se tutto va bene, quest'anno ci sarà ufficialmente un gemellaggio con i quartieri di Floridia che si ripeterà, affiancheranno ognuno, affiancheranno un quartiere e si ripeterà anche l'anno prossimo in occasione dell'ascensione di Floridia perché entrambe sono due manifestazioni che comunque contraddistinguono Canicattini e Floridia, cioè hanno segnato la storia di questi due paesi. Quindi è una sorta di recupero anche del Paglio Ippico di Floridia in modo tale che insomma ci sia questa sorta di collegamento. Bene, quindi c'è questo legame tra i due comuni. Agli 8 comuni saranno dati 8 sinelli, i fantini sono stati preparati. Sì, i fantini sono stati già preparati. Si distingueranno con le giubbe? Sì, ogni quartiere ha il suo colore. Con il fantino con la giubba del quartiere di appartenenza è scritto quartiere Vardone, quartiere Priolo. Ma perché? Ma perché fare tanto lavoro per organizzare il ventesimo, il trentesimo, trentesimo edizione? Io lo voglio dire qua pubblicamente un ringraziamento particolare a Roberto Cannata perché si è speso per il 95% della riuscita di questa bellissima manifestazione, parentesi chiusa. E allora è per lasciare qualcosa alle generazioni future, perché non stiamo lasciando niente. Cioè lei sta parlando di passato, non di futuro. Cioè io sto cercando di fare recuperare, di fare vedere il passato, dove veniamo, perché se non si vede da dove si viene non c'è futuro. Ma peraltro questo passato le ha dato una prospettiva di lavoro nuovo. Sì, anche grazie al Palio di San Michele io ho intrapreso una strada, ho intrapreso una strada che sarà il futuro secondo me, mio e dei miei figli, perché ho recuperato quasi 28-29 carrette siciliane che erano, altrimenti sarebbero stati o venduti fuori all'estero o la camba, la camba, sassi mangiato ecco, lo dico in dialetto. Tra le altre cose ho recuperato l'asino, l'asino sarebbe la nostra razza, quella riconosciuta in Sicilia. Mi mandate intanto dalla regia le immagini del Foro Buario che noi abbiamo seguito due anni fa, mi ricordo. E mentre il signore Cavaliere ci parla dei suoi asinelli, vediamo anche i carretti. Questi sono i carretti locali della provincia, proprio locali di Canicattini, Floridia, Siracusa o Rosolini, dove li costruivano e venivano utilizzati dalla gente del luogo. Questo per esempio è un onniduiliufkara, è del suo proprio, è un carretto oltre i cento anni perché era appartenuto al bisnonno diciamo. Come dicevo ho recuperato anche la razza ragusana nella provincia di Siracusa, io dovrei essere uno dei maggiori allevatori perché si parla che nel 2000 non c'erano più asine, si parlava di 200 esemplari come razza ragusana, ora siamo arrivati a quasi 3000 perché c'è un registro anagrafico che lo tiene l'incremento epico di Catania, sono tutte registrate, sono tutte numerate, hanno un inizio e hanno una fine. A me la cosa che mi fa più impressione è vedere tanti giovani che poi erano lì pronti, che vi seguono. E questo è quello che ci ripaga dei sacrifici e del tempo che perdiamo, guarda questi sono tutti ragazzi che almeno per tre giorni vedono cosa facevano i loro nonni, i loro bisnonni ed è importante perché altrimenti come ho detto prima non c'è futuro, se non sappiamo da dove veniamo non c'è futuro. E allora benissimo, io con questo chiuderei, avete qualcosa da aggiungere oltre che dare l'appuntamento naturalmente già da questa sera a Canicattini Banni per queste tre giornate importanti, ricordiamo stasera il Cantastorie in piazza 20 settembre, poi al Foro Buonico sempre al Via Vittorio Veneto invece giorno 12, Vittorio Emanuele a Canicattini invece sempre alle ore 16 circa, alle ore 16 fare la sfilata con gli otto quartieri storici che percorreranno appunto accompagnati dai carretti siciliani, poi ci sarà il museo Sotto le Stelle a partire dalle ore 20 e musica del gruppo Perciazzucca, poi invece la Corsa Quescecchina ce la dobbiamo andare a vedere anche perché io ci sarò, che sono contentissima perché farò ancora una volta la cronaca delle Corse degli Asini, quindi per me veramente io vi ringrazio perché accompagnerò insomma come voce ma ci sarà anche Telestar perché vogliamo raccogliere e raccontarvi questo documento che per noi è un pezzo di storia di Canicattini ma anche è un modo per promuovere l'equide che comunque è legato agli asinelli che al nostro ipodromo del Mediterraneo sono protagonisti il 2 giugno invece a Canicattini per il Palio. Palio di San Michele perché è il patrono di Canicattini? Sì, è il Santo Patrono. E si festeggia il 29 settembre. Nel 29 settembre, quindi voi praticamente date saluto al Santo in questo modo. Sì. Robertino. Ci siamo. Che dire? Come hai ben detto siamo soddisfatti soprattutto per la partecipazione di giovani perché questi tre giorni c'è la regia comunque chi è che deve diciamo coordinare il tutto, comunque ogni quartiere c'è un giovane davanti, cosa che non accadeva fino a dieci anni fa, che sta coordinando gli interi quartieri. Quindi sono, hanno lasciato lavoro, famiglia, fidanzate e tutto e stanno proprio, si stanno spendendo gratuitamente. Ritorneranno a casa, tranquilli che ritorneranno a casa. Però io ho da fare un merito proprio a questi ragazzi che è proprio veramente la cosa che a me personalmente dà la forza di continuare. Bravi, bravi e complimenti. Allora, verremo a vederci il trentesimo palio San Michele. Andiamo adesso, dopo che abbiamo salutato. L'ultimo appunto, questa è una notizia, diciamo, da ieri. Saranno ospite della nostra bella manifestazione del trentesimo palio di San Michele, anche i mulari siciliani. Sono contenta. Questa è una cosa che abbiamo fatto. Il crocio tra il cavallo e l'asino esce fuori il mula, quindi sono contenta. Ci saranno anche loro ad aprire la sfilata dopo, dietro il carretto siciliano, ci saranno anche loro con i muli a... Rimarranno anche di sera? Sì, sì, sì. La dimostrazione della radio con il muli. Benissimo. Se tutto va bene. Hai visto che carino. Stiamo chiudendo l'ultimo un po' di... Va bene. Allora, grazie a Roberto Cannata, grazie al signor Enzo Cavalieri che adesso ci lasceranno. Noi andiamo in stacchetto, una piccolissima pubblicità e poi ci andiamo a calare invece con Giuseppe Brancato e tutti gli addetti ippici nel convegno ippico di sabato. Noi andiamo in stacchetto, grazie a tutti. Noi andiamo in stacchetto, grazie a tutti. e interessanti, prima andiamo a guardare quella che è la schermata della classifica del concorso miglior pronostico. Aggiornata al 5 settembre, cioè l'ultimo convegno che si è registrato, Antonio Pedà che era entrato appunto in questa seconda parte si difende benissimo. Va a 5 punti, Paolo Giorotana a 4, Salvo Battaglia a 3, Michele Monforte a 3, Salvatore Liliana a scalora a 3, Eros Pedà insomma tiene il confronto col fratello minore, ancora Giovanni Olandese, Nino Russo, Pronostici Corse Ippica, Renato Mastrobuono e troverete comunque tutta la classifica per intero sul nostro Facebook Cavalli e dintorni. Sempre più gli iscritti, sempre più partecipanti. Ci sono stati 8 entrate nuove e sì veramente stiamo crescendo e sempre più mi aumenta il lavoro. Se faccio degli errori poi voi mi corraggiate, io correggo tranquilli che tutto viene risolto. Tu partecipi Giuseppe? Sì partecipo, sono a due punti. Sei a due punti, uno e uno. Sono stati due convegni difficili. Sono stati due convegni difficili. Primo perché secondo me rientrano un po' i cavalli, erano tutte in sabbia, comunque c'è cavallo che si adattava, cavallo che non si adattava, non c'erano punti di riferimento ben precisi. Quindi comunque sono i convegni questi più importanti. Domani riapre la pista Erba, che vuol dire? Speriamo che tenga bene la pista dopo queste piogge. Vuol dire che ci stiamo addentrando nel convegno autunnale che è quello più importante per noi. Peraltro è il ventennio dell'ippodromo del Mediterraneo quest'anno e quindi le corse più importanti si svolgeranno anche in una cornice in cui la struttura ricorderà la sua nascita nel 1995. Guardiamoci le corse allora di questo sabato partendo dalla corsa numero due. Perché? Perché è la preparazione all'handicap principale. Il dottore Mazzarella intanto ci ha raggiunto. Allora dottore Mazzarella se lei entra, io prima che ci addentriamo, che dici Giuseppe, alla fase dei pronostici, stavamo appena per iniziare, daremo contezza di quella che è stata la riunione che si è svolta al Mipaf a Roma in cui le società di corse, prego, le società di corse hanno incontrato il Mipaf. C'erano alcune delle questioni messe in... Ma ecco, tutto in diretta, delle questioni... Ma non volevo io rivoluzionare il tuo programma, potevi tranquillamente completare e poi... No, ma ti invece già è stata annunciata la sua presenza più volte, lo tenga lei stesso. È stata annunciata più volte la sua presenza proprio perché avevamo annunciato questa riunione tra le corse e il Mipaf. Che è successo? Di quali argomenti e quali temi avete affrontato? Il tema era quello della nuova convenzione tra il Mipaf e le società di corse a partire dal primo gennaio 2016. La riunione è stata molto positiva, secondo me, anche perché il Ministero ha annunciato che preliminarmente alla stipula del nuovo rapporto convenzionale si procederà finalmente alla valutazione degli ipodromi. E questo credo che è l'aspetto più importante, è una cosa che io ho già sostenuto prima della riunione e il fatto che il Mipaf abbia finalmente deciso di applicare, fra l'altro, una norma di legge prevista nella 168 e nella 449 nel decreto legislativo, che l'unire prima e il Ministero avevano l'obbligo di valutare gli ipodromi e quindi assegnare a ogni ipodromo un ruolo. Questo credo che sia una questione molto importante. Il Ministero ha preliminarmente deciso che si partirà dalla valutazione degli ipodromi. Dopo la valutazione degli ipodromi, gli ipodromi saranno, secondo il ruolo che gli viene attribuito, sistemati in delle fasce, fasce funzionali al ruolo che hanno e quindi si procederà dopo a stabilire i criteri innovativi per la remunerazione dei servizi resi dagli ipodromi. Credo che insieme a una valutazione quantitativa il Ministero voglia fare anche una valutazione qualitativa delle strutture e dei risultati che le strutture danno e quindi questo forse porterà un sistema di remunerazione più giusto ed equo. Sicuramente questo è stato apprezzato dalla stragrande maggioranza degli ipodromi e delle associazioni degli ipodromi che erano presenti, che comunque hanno sottolineato l'importanza però che gli ipodromi recuperano nel ruolo che hanno delle funzioni che ormai non ci sono più, come faccio un esempio il pagamento dei premi, l'organizzazione tecnica delle corse, alcuni servizi tecnici che vengono dati agli operatori in modo non del tutto lineare e veloce da parte del MIPAF, mi riferisco a autorizzazioni per portare i cavalli all'estero, passaggi di proprietà e il resto e quindi recuperare delle funzioni che storicamente erano degli ipodromi e poi che col tempo sono passate direttamente accentrate all'amministrazione centrale. A tal proposito, lo sa che il presidente della SNAP Emilia Di Meo è uscito fuori denunciando un po' gli errori che hanno fatto all'ufficio pagamento premi trotto per la lavorazione di alcuni mesi e che comunque gravano poi agli operatori che ricevono insomma somme sbagliate. E' proprio questo, credo che infatti questo recupero anche di funzioni e di attività che storicamente facevano gli ipodromi è anche un servizio importante che si dà agli operatori del settore che poi hanno il contatto e l'interfaccia diretta con le società di corse. Non so nello specifico qual è il problema che ha sottolineato la signora Emilia Di Meo, ma comunque proprio in questo senso il rapporto diretto con le società di corse questi errori li portava al minimo. Sono errori che possono succedere in generale, ma sicuramente il rapporto diretto è più vicino con le società di corse, se gli errori ci sono si vorrebbero più agevolmente. Quindi questo sicuramente per la Convenzione. Certezza invece sulle somme da destinare anche per gli anni prossimi? Questo è stato un dibattito perché gli ipodromi hanno sicuramente posto il problema delle risorse. Il problema delle risorse, oggettivamente il dottore Emilio Gatto, che il direttore generale del MIPAF ha detto che non dipende esclusivamente dal MIPAF, ma dipende da quello che succederà in finanziaria. Quindi quali sono le somme che il Parlamento destinerà all'IPPIC? È chiaro, credo che ci sia un ruolo politico importante da parte del Ministro e del Sottosegretario sul tema. Gli ipodromi hanno sottolineato che in questo momento le risorse sono insufficienti e quindi come minimo dovrebbero essere incrementate. Questo non credo che sia una situazione molto facile. Io mi auspico che la politica comprenda qual è il ruolo che hanno gli ipodromi, il ruolo che hanno le categorie IPPIC e tutta la filiera IPPIC. È un settore che produce il reddito, un settore che occupa persone, un settore che paga tasse, un settore che paga contributi Inves, un settore che comunque contribuisce in modo indiretto notevolmente al sostentamento della finanza statale. Quindi una ulteriore compressione delle risorse sicuramente porterebbe degli esiti che io non auspico e mi auguro che non avvengano. Ci sono tanti temi che si trattano nelle riunioni, soprattutto si cercano delle certezze, anche quella di avere un calendario annuale che possa naturalmente dare una certezza anche per distribuire le cose. Questo è stato il tema che è stato anche questo affrontato. Il MIPAF senz'altro si è impegnato a far sì che il calendario sia un allegato della Convenzione, quindi almeno gli elementi principali del calendario che usciranno, auguriamo, entro l'anno. Evidentemente anche questo dipende dalle risorse perché il Direttore Generale ha detto obiettivamente, diciamo, non è stata una volontà espressa del MIPAF far uscire il calendario mese a mese, ma bensì questa è stata una questione che è stata legata alla mancanza di risorse e quindi si è dovuto procedere in questo modo. Si augura che il prossimo anno questo non avvenga e che entro il dicembre si sape il calendario di tutto il 2016 e il relativo stanziamento a premio. Abbiamo aperto questa puntata salutando Gregorio Arena, il Fantino Catanese che ha avuto questo incidente insieme anche ad un'altra Fantina. Lì si è successo, ci sono delle indagini che faranno chiarezza a San Siro. Certo, dispiace quando succedono degli imprevisti, degli incidenti su pista, sul lavoro. Io mi associo fondamentalmente agli auguri di vero cuore, ai due ragazzi che sono incappati in questo spiacevolissimo incidente e mi auguro di una loro immediata e pronta guarigione. Tra l'altro Gregorio lo conosciamo bene, più volte è venuto a montare a Siracusa e sono legato da particolare affetto a lui, ma anche l'altra ragazza che non conosco personalmente merita tutta la nostra vicinanza per quello che è possibile e l'augurio di pronta guarigione. Non entro nel merito, io credo che sia impossibile che ci sia stata una buca così grande fatta da un cavallo in allenamento. Non so se non saprei dire, ci sono, leggo come voi dalla stampa, ci sono delle indagini in corso, ma in questo momento è un aspetto secondario, l'aspetto più importante è avere subito il più possibile fra noi, i due ragazzi sfortunati. Peraltro noi apriamo con la manutenzione straordinaria della pista Erba, parlando appunto di piste, con sabato, il terzo sabato quindi, il terzo convegno che si fa di galoppo con una pista che ha subito dei lavori di manutenzione straordinaria, come si presenta? Terrà l'acqua? Dice Giuseppe, speriamo che ha tenuto l'acqua di questi giorni. Magari l'acqua ce ne vorrebbe sempre tantissima, quel problema non è quello dell'acqua, il problema è quello del sole, quindi di innaffiare continuamente. La pista è in ottime condizioni, al punto tale che abbiamo ritenuto di anticipare l'apertura della pista in Erba che tradizionalmente avveniva a riunione inoltrata, invece quest'anno già subito dopo la seconda giornata abbiamo programmato delle corse in Erba perché le condizioni della pista sono veramente ottime, sia come qualità dell'inerbimento, sia come fondo, che insomma le caratteristiche tecniche generali sono veramente eccellenti. Se non c'è altro da aggiungere, qualcosa che magari vuole sottolineare, lo lasciamo al suo... Penso di aver detto già tanto e vi lascio ai vostri pronostici che credo che poi sono quelli che interessano più al pubblico, un pochino meno i supporti burocratici. Beh, ma anche quello fa chiaretta, quindi la ringraziamo tanto per questo intervento, la lasciamo al suo lavoro. Salve, buona giornata, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie agli spettatori. Bene, andiamo allora, ecco qui sullo studio, mentre il dottor Concetto Mazzarella ci lascia e noi ci addentriamo, come stiamo facendo Giuseppe, siamo pronti a dare i numeri? Sì, sì. Potrebbe avere delle possibilità sorprese con tantissime chance Forex e sopra Antonia. Così perlomeno presenta la corsa il nostro Vincenzo Schiavone. Quindi, che ne dici? È veramente ottava così scontata? Ma di scontato non c'è mai nulla, perché i cavalli sono sempre pronti a farci bugiardi. Però, sicuramente, ottavo è un cavallo che ci ha sbalordito. In passato, con pesi veramente sbalorditivi, è riuscito a vincere questi contesti. Adesso ha scalato sicuramente i premi della lista e è divinta nel dicembre scorso e penso che sia pronto a vincere questa condizionata di preparazione. È un cavallo che non paga il rientro, quindi lo voglio azzardare come favorito, ottavo. Poi mi piace tanto Scilloso. È la prima apparizione sul tracciato siracusano, però il cavallo ha affrontato categorie nettamente superiori a Milano, dove all'ultima vince un handicap da 14.300, quindi non è sicuramente da sottovalutare. È montato da Salvo Basile, un fantino di origini siciliane, ma lo conosciamo anche in altri podromi d'Italia. Di conseguenza può essere sicuramente l'alternativa valida ad ottava. E poi Never Say Never e Gasquet, che sul tracciato hanno fatto vedere sicuramente cose positive, soprattutto Gasquet, che anche lui lo scorso inverno si è messo in mostra vincendo l'handicap principale sui 2.300 metri. Insomma, questi sono i cavalli che spiccano. Quindi, ottava. Ottava, Scilloso, Never Say Never e Gasquet. Le sorprese sicuramente Forex. Ha lasciato gli estremi, 1,6. Sì. Che cosa dicono del web, Sami? Diciamo che i nomi, visto anche pochi partenti, sono quelli. Tutti ad alta voce annunciano Ottava. Diego Cutrale lo dichiara come netto favorito, con avversari di tutto rispetto Scilloso, che viene da Milano con dei buoni risultati. È un Gasquet affamato di vittoria. Peppe Cuccia ha stesso discorso, pochi partenti ma buoni. All'opera Ottava, regina del Mediterraneo, sul doppio chilometro, rimane sempre il favorito. Con il rivale di sempre, Gasquet. Buona chance per Forex, che è rientrato bene, dice Peppe Cuccia. E tra l'altro su un tracciato non molto gradito. Beh, allora, se dobbiamo parlare di Ottava, si è scesa giù a sentire Antonino Canella, vediamo cosa ci ha raccontato. Prima chance per Ottava, che rientro sarà? Guarda, il cavallo ha lavorato benissimo. Secondo me c'ha chance di vincerla questa corsa. Anche se nella compagnia c'è qualche cavallino bene, che sta correndo bene, come Never Say Never, il cavallo nuovo acquistato adesso è Scilloso, che è un cavallo da ottimi mezzi. Quindi ecco che viene nominato ancora una volta Scilloso, seppur al debutto. Quindi se si dovesse adattare benissimo alla nostra pista in erba potrebbe essere più che una sorpresa. Dopo la seconda corsa ci andiamo a vedere la terza, perché è una Maiden con i due anni, con una Miglio in pista grande, affollatissimo, campo partenti. Sono ben 11 i soggetti al via. E qui tra i debutti che comunque sono chiacchierati del numero 2, Authorize the Soul, del numero 6, Eternity Star, ancora l'11 di Teatro Greco, ci sono invece i più rodati, che potrebbero essere i Domeneo, base forse per i più recenti piazzamenti, Madame Power, che potrebbe essere l'alternativa valida, oppure buoni riferimenti del numero 3 di Blue Prince. Giuseppe, tu chi sceglieresti su questo contesto? Tu hai Dynasty Door. Sì, io c'ho Dynasty Door. Partiamo da questi soggetti. Dynasty Door è un cavallo che ha debuttato alle prime giornate per i cavalli di due anni. È un cavallo che non era pronto sicuramente per debuttare, si doveva aspettare sicuramente ancora qualche mese. Ha cambiato proprietario, il nuovo proprietario ha saputo aspettare, ha avuto tanta pazienza. Lo stiamo presentando sui 1.6, che non è una distanza che lui ha affrontato, né in allenamento la mattina, né l'unica corsa. Sì, diciamo che è un test per valutarlo un pochettino. Le alternative invece su questa corsa? Sicuramente Idomeneo, il cavallo che spicca di più, è sempre piazzato, non è mai uscito dal marcatore. Sicuramente un cavallo piazzato incondizionata non può essere escluso, quindi lo do come favorito Idomeneo. Poi c'è chiacchieratissimo Blue Prince, anche lui è soltanto una corsa in carriera. A Napoli, sinceramente io l'ho vista, il debutto non mi è dispiaciuto. E' un cavallo anche lui che aveva bisogno forse di qualche mesetto in più. E' venuto qui a Siracusa e il team Guerrieri sicuramente l'ha saputo preparare al meglio per questo appuntamento. Credo che sia l'alternativa Idomeneo. Infine voglio nominare un debuttante molto chiacchierato sotto nelle scuderie, Teatro Greco. Io sinceramente non l'ho visto lavorare, però ho sentito spesso parlare di questo allievo di Luciano Alastrina. Ma vedremo che farà il debutto. Su questa corsa ci sentiamo alcune interviste. Partiamo da Daniele Scalora che è impegnato su Supergulp. 11-2 anni tutti alla ricerca del primo successo. Quante chance per Supergulp? La cavalla sta bene. La settimana scorsa ha vinto, poi è stata messa seconda per una retrocessione, però la cavalla ha grossi mezzi. Il cavallo che spicca è il 7-Domeneo. Un cavallo che è finito sempre secondo in delle Maiden a reclamare. Un cavallo che sta cercando la vittoria. Secondo me in questo contesto è il cavallo che può risolvere questa Maiden. Poi mi piace il 4-D Box of Fire. Molto chiacchierato questo 11-D Teatro Greco. E visto che Domeneo è naturalmente il protagonista di questa giornata, vediamo Sebastiano Giuliano, il proprietario, come lo presenta. Ottime le potenzialità mostrate fino ad oggi di Domeneo. Oggi potrebbe partire col ruolo di favorito tranquillamente? Sì, è stato un po' sfortunato. Fino a stamattina ha fatto 5 corse, c'è 4 secondi o un terzo. Sembra che c'è stato qualcosa da recriminare, però alla fine non si accontenta di quello che ha fatto. Una Maiden affollata, com'è la valuta? Sì, è una Maiden discreta. Sono diversi cavalli che sono chiacchierati, poi le corse sono corse. Quali sono i suoi numeri? C'è questo numero 11, Teatro Greco, che fanno un caballare. Poi, stamattina un po' è una cavalla che qualcosa l'ha fatta vedere. C'è il numero 2, che è una debuttante qualitativa. No, è una corsa aperta a diversi cavalli. E dal web, Sami? Allora, dal web intanto io volevo fare un appunto su Teatro Greco, perché ho sentito Giovanni Formica, non ai microfoni, ma personalmente, e mi ha parlato di un cavallo che ha lavorato davvero bene, che però deve essere valutato insieme agli altri. Per i pronostici invece dal web abbiamo sempre Diego Cutrali, che parla di una corsa in cui tutto può succedere. Le piace molto Super Gulp, che all'ultima uscita ha dimostrato un netto miglioramento, ma valuta ottimi soggetti anche Madame Power e lo stesso Idomeneo. Peppe Cuccia dice che i lavori mattutini parlano molto bene di Blue Prince e Dead Eternity Star, ma non vanno sottovalutati ovviamente i cavalli che hanno già debuttato come Domeneo, Super Gulp e Madame Power. Attenzione, anche lui dice alla sorpresa che potrebbe fornire Teatro Greco. Sentiamoci l'intervista di Antonino Cannella, che è impegnato con Box of Fire. Undici al via in questa maiden, Box of Fire dove lo collochiamo? Guarda, questo è un cavallo che ha fatto solo il debutto, ha lavorato bene, secondo me può correre questa corsa benissimo. Come scianze di questa corsa mi piace Domeneo, che è un cavallino che secondo me può trovare il successo, e Madame Power che ha corso bene all'ultima. E sono quelli quindi nomi che fornisce Cannella. Andiamo alla quarta, Ippica nazionale abbinato a questo premio Super League, con handicap discendente sul miglio in pista grande per tre anni e oltre. Anche questa è una corsa aperta, con Coupe de Talon, che anche se apre la Scala Pesi comunque per lo stato di qualità ci sta sempre, Guernito Sprint che è in progresso, Lord Amfouet in attenzione ben collocato in perizia, dice Vincenzo Schiavone. Le alternative potrebbero fornirle Umbi, Best Bivago, Greybet, che comunque sono lì per lì e potrebbero essere valide alternative. Giuseppe, tu che ne pensi di questa corsa, anche questa aperta? Sì, anche questa qui è una corsa molto difficile. A me personalmente piace Greybet, una cavalla che in questi contesti riesce a rendere sicuramente il massimo. 60,5 kg, montata da Guerrieri, che la conosce molto bene, io la vedo come favorita Greybet. L'alternativa potrebbe essere Coupe de Talon, un cavallo regolare, che conosce molto bene il tracciato, affrontato anche lui categorie superiori. Nonostante i 63 kg lo vedo come valida alternativa. E poi Lord Anfouet, che come ha detto Vincenzo Schiavone, ha un peso da sparo, 57,5 kg. Anche lui potrebbe dire la sua in questa corsa, però è una corsa molto aperta, tanti soggetti possono dire la sua. Sentiamo come la vede Daniele Scalora, lui è impegnato sul pesino, sul più leggero, Climatologist. Rientra Climatologist, prima della pausa estiva non stava attraversando un periodo brillante, che tu sappia qual è la sua condizione. Guarda, il cavallo è stato fermo per un problema di terreno, perché su un terreno pesante non si dimostra molto bene. Infatti in scuderia l'avano messa a riposo proprio per questo. Il cavallo sta rientrando, è ben messo in perizio con i chili, però sempre si spera per il rientro, un bel rientro. La cavalla che spicca qua è Greybet, perché 60,5 in questo contesto è la cavalla da battere. Poi do molto fiducia al vecchio Lordon Fuen, un B-Best che l'ho visto correre bene. Che dicono dal web, Sabi? Allora, dal web, difficilissimo, anche Diego Codrale è d'accordo su questo handicap abbastanza aperto. A lui piace molto Coupe de Talon, che scende di categoria ma gravato al peso. Lordon Fuen per i buoni mezzi, la sorpresa potrebbe arrivare da Climatologist, con un buon pesino, però se ritrova la forma perduta. Bivago invece, favorito della corsa per Peppe Cuccia, bene collocato in perizia. Ghiscia e Greybet, poi le prime alternative, ma attenzione anche al Guadido Sprint. Bene, sono tantissimi i nomi che abbiamo fatto, ritorniamo su Lordon Fuen perché sentiamo Antonino Cannella. Guarda, Lordon Fuen è un cavallo che sicuramente ha affrontato compagnie migliori. Secondo me c'è la chance anche lui in questa corsa, anche se secondo me la deve vedere con Greybet e Ghiscia, che c'è un ottimo peso. Allora, sentito le interviste, ti sei fatto un'idea ancora più chiara, Greybet ancora più forte dopo quello che ha detto Daniele Scalora? No, io sono sempre delle mie idee, secondo me Greybet in questo contesto spica. Mettiamoli in ordine questi cavalli, proviamo a dare una trio a girare oppure una base con mirata della schermata? Meglio una trio a girare, visto la difficoltà della corsa. Darei Greybet, numero 3, Coupe de Talon, numero 1, Lordon Fuen, numero 5. Bene, invece partiamo dall'ingresso di questo convegno che entrerà in pista piccola e quindi comunque sull'erba già alle ore 16.30. Un convegno di sei corse aperte ed equilibrate che appunto viaggeranno anche su questo tappeto d'erba. La prima è una reclamare, 1.400 metri che impegna i tre anni oltre, il premio Superliga, ci sono otto soggetti al via. Bene, red job forse per qualità, anche alta quota in grado di lottare. L'editari forse è impegnato un filino su una distanza un po' più lunga, però sicuramente questi sono i tre nomi che Vincenzo Schiavone fa spiccare nel resto del contesto. Anche se la corsa presenta alternative valide. Su questa corsa ci sentiamo subito Daniele Scalora che è impegnato su Isola d'Arcadia. Che rientro ti aspetti da Isola d'Arcadia? La gavala ha lavorato bene, lei ama molto la sabbia. 1.400 distanza un po' lunga perché è una gavala molto veloce. Pensiamo in un bel rientro per i chili che ha, anche se è uscita una reclamare molto qualitativa perché abbiamo il 2 di alta quota è l'editari che vince 1-8-8 l'ultima corsa e poi mi piace pure 3 di Gio per la condizione che ha. 2-4-6 sono i cavalli che ha detto Daniele Scalora. Vediamo su questa stessa corsa Antonino Cannella su alta quota. Torna in pista alta quota con quale chance? Guarda la cavalla è in ottime condizioni, sicuramente la corsa la porterà avanti, non è prontissima. Secondo me la corsa è abbastanza aperta. Il cavallo da battere secondo me è il red di Gio e lei sono le due chance di questa corsa. Per la piazza metto Neverwill. Spunto è una piazza che è Neverwill e oltre a questi soggetti nominati 2-4-6 ti piace qualcun altro? Sì, Neverwill secondo me è quello che spicca di più rispetto a questi tre. È un cavallo che è lontano dalle piste da qualche mese, viene riproposto da Erasmolo Piparo, una persona che è presente ai cavalli sicuramente pronti, già rientro. Credo che potrebbe essere lui l'alternativa a questi tre per strappare una piazza. Sabina, che dicono del web? Allora, io ho parlato con Eros Pedà, proprietario dei editari. Lui annuncia una cavalla in una grandissima forma, però ha il dubbio della distanza. 1.400 metri li ritiene troppi, insomma. Una distanza lunga, per cui comunque correrà per una piazza e sicuramente correrà benissimo. Sarà una corsa per l'editari di preparazione per quelle successive. Diego Cutrale invece fa il nome di l'editari e dice che dovrebbe far solo questa corsa, però ci sarà da fare i conti con Alta Quota e con Isola d'Arcadia. Reggio invece per Peppe Guccio ha militato in contesti più importanti, lei è la favorita, segue la buona l'editari, la qualitativa Alta Quota sorpresa sopra Avarc. Bene, la quinta, andiamo ad analizzarla. Una vendere per soli tre anni, miglio in pista grande per otto soggetti al via. La quinta corsa è una corsa in cui Viaggio in Oriente, il numero otto dello schieramento, potrebbe, anche perché scende leggermente di categoria e si confronta con una corsa modesta. Poi ancora Mister Di Giango su terreno buono e Smart Stepper che vince in estate. Affiniti Orange non ha espresso i mezzi secondo Vincenzo Schiavone, ma ha tutta la qualità per poter dire il proprio. Giuseppe, che ne pensi di questa corsa? Sì, è una corsa, anche questa, abbastanza aperta. Sicuramente spicca il nome di Viaggio in Oriente, che ha affrontato categorie superiori. Il cavallo porta 60 kg, lo vedo come favorito, anche se la distanza mi sembra un filino corta. Ultimamente l'ho visto correre bene sulla distanza, adesso affronta il Miglio, credo comunque possa fare sicuramente bellissima figura. L'alternativa potrebbe essere Smart Stepper, vincitore già sul tracciato, un cavallino abbastanza regolare, valido. Giarratana lo conosce abbastanza bene, lo monta anche lui la mattina, quindi credo sia la valida alternativa a Viaggio in Oriente. Poi come terzo vorrei nominare Garçon Donner, un cavallo che sulla carta non ha fatto nulla, però l'ho visto alle scuderie in ottima forma, l'ho visto lavorare bene. Io gli vorrei affidare il ruolo di... Incomodo. Sì, terzo incomodo, sorpresa della corsa. Bene, quindi potrebbe essere anche questo è il cavallo un po' sorpresa della giornata. Che ne dicono dal website? Allora, Peppe Cutrale, Viaggio in Oriente e Smart Stepper, le due certezze. Peppe Cutrale. Invece passiamo a Diego Cutrale. Viaggio in Oriente e Smart Stepper, d'accordo con... Non so se è un parente, comunque, sembrano i più accreditati per la vittoria, per la piazza Mister Django. Basta così, andiamo alla sesta allora, con l'ultima corsa che andiamo ad analizzare, l'handicap discendente in pista sabbia, 1900 metri, tre anni e oltre. Si chiude quindi sul dirt con gli specialisti. Attenzione a questo numero 6. Sasto Red, dice Vincenzo, che ha fatto bellissima figura la sua prima uscita in sabbia, è arrivato secondo, 57 kg potrebbe essere sua, insomma, questa corsa. C'è dichiarato non partente il numero 1 dello schieramento Golden General con 64 kg, apre la scala pesi, quindi Brain Q Joy, che ha fatto bene nel periodo. di grandi mezzi, di grossi potenzialità, sia Zon che Grimilde. Tu che ne pensi, Giuseppe? Brain Q Joy, sta bene? La Cavallo, sicuramente, con la sosta estiva qui all'ippodromo, sicuramente il riposo l'ha aiutata tanto. Andate in vacanza? Sì. Fatti le ferie? È stata 20 giorni in totale relax, l'abbiamo rimessa in moto e la Cavallo giorno dopo giorno ci ha fatto vedere miglioramenti, sia nel lavoro, sia nella condizione fisica. Abbiamo aspettato, perché potevamo correre anche lo scorso convegno, visti pochissimi partenti, però abbiamo aspettato per cercare di portarla la più pronta possibile. credo che, nonostante i 62 kg, possa fare sicuramente bella figura. Di chi hai paura? Io ho paura proprio di questo Sastureddu, che la prima giornata è arrivato secondo, dietro a De 3 del Dom, che è un ottimo soggetto. 57,5 kg è un peso abbastanza valido per questo schema di corsa. E poi voglio nominare Grimild, nonostante l'ultima corsa, che è stata molto anomala, perché in curva non seguiva più. Quindi non so, magari è successo qualche inconveniente durante il tracciato, però sicuramente è una cavalla che prima della sosta estiva ci aveva fatto vedere delle belle cose, aveva vinto e si era piazzata in questi contesti sulla sabbia. C'è Sabina che scuote la testa quando ti conferma. Sì, Grimild ha deluso davvero all'ultima. Anche l'allenatore Marcello Restuccia si aspettava qualcosa in più. Lui addirittura la riteneva proprio tra i papabilissimi di quel convegno, però ha deluso un po'. Io l'ho chiesto pure a Cannella. Andiamo a vederci l'intervista, visto che hai nominato Cannella, su Grimild. Positiva è regolare Grimild che forse è un po' delude all'ultima. Sì, all'ultima deluso un po'. Oggi, domani sicuramente, se la cavalla ritrova la forma di prima c'è la chance di vincere. Sta correndo bene questo sostareddo che all'ultima finisce secondo e come un'altra piazza metto il numero due, Brick and the Ujoy. Dal web invece? Allora, dal web c'è il riscatto di Grimild per tutti, per Diego Cutrale, per Cuccia, un riscatto appunto che potrebbe avvenire tranquillamente, ma c'è Sosto Reddu che ha fatto paura all'ultima uscita. E poi, Onda Rossa potrebbe inserirsi. Sorpresa della corsa, Bring You Joy. Ah, ti danno come sorpresa. Diglielo che siamo qualcosa di più. Vabbè, non gli do torto perché l'ultima prestazione è stata anche per Bring You Joy un pochettino opaca, però era sul tracciato in erba. Oggi... Ritorna in sabbia? Sì, ritorniamo sulla sabbia che è il tracciato a lei più gradito. Speriamo che... Sia più di una sorpresa. Sia più di una sorpresa. Bene, allora, grazie a Giuseppe che hai perso questo tempo con noi e ha arricchito invece... È sempre un piacere partecipare alla vostra sorpresa. Grazie mille, anche perché grazie a voi addetti insomma possiamo raccontare quello che poi si spera insomma succederà all'interno dei convegni di corse. Domani l'appuntamento all'Ipodromo del Mediterraneo si parte alle ore 16 e 30 se non mi sbaglio con la prima delle sei corse. Vi ricordo, tutte aperte e equilibrate. Riapre la pista in erba che sarà un po' la novità della giornata e darà anche nuovi punti di riferimento. I commenti li faremo naturalmente dopo. Grazie a chi parteciperà al concorso per i pronostici.